Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Una famiglia un po' in crisi si prende una vacanza lontana dal caos cittadino e dalla routine quotidiana. Tutto sembra andare per il meglio, quando però cominciano a verificarsi strani eventi che celano un'inquietante verità sul destino degli Stati Uniti d'America. Questo è Il mondo dietro di te, film tratto dall'omonimo romanzo di Ruman Alam e pubblicato da Netflix. In questo video andremo ad esaminare Il mondo dietro di te, riflettendo anche sulle tematiche più interessanti di tale pellicola. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Il mondo dietro di te si apre con una scena che presenta due dei protagonisti del film, Amanda Sanford, interpretata da Julia Roberts, e il marito Clay Sanford, interpretato da Ethan Nook. Con loro vivono due figli, ossia Rose di 13 anni e Archie di 16. Amanda decide di organizzare una vacanza a sorpresa e affitta per la famiglia una bellissima casa a Long Island. Mentre sono in spiaggia si verifica il primo evento inquietante. Una grande nave petroliera si spiaggia a Riva senza un apparente motivo. I Sanford tornano a casa e scoprono che il wifi e la rete cellulare sono offline. Rose resta particolarmente turbata da questo, visto che vuole vedere a tutti i costi l'ultima puntata della serie comedy Friends. Durante la notte due persone bussano alla porta della casa. Sono G.H., Mahershala Ali e la figlia Ruth, che dicono di essere proprietari della casa. I due si dimostrano gentili, ma Amanda non si fida di loro. Ciò crea una notevole tensione. Ad ogni modo G.H. e Ruth si sistemano nella camera degli ospiti per passare la notte. L'uomo racconta che New York è stata colpita da un blackout totale, e che quindi loro sono scappati dalla città prima che scoppiasse il caos. La mattina seguente G.H. va a casa dei vicini e la trova distrutta e abbandonata. Seguendo una scia di detriti, l'uomo trova i rottami di un aereo precipitato al suolo, e poi assiste con i suoi occhi a un altro rovinoso schianto. È sempre più evidente che sta succedendo qualcosa di molto grave ai sistemi informatici che tengono in piedi la nostra civiltà. Anche Clay decide di andare a cercare informazioni, e cerca di guidare fino al paese più vicino, ma vista l'assenza del segnale GPS, si perde. Clay vede poi un aereo che lancia una serie di volantini, scritti in arabo, che inneggiano alla distruzione dell'America. Nel mentre, Rose avvista più volte dei cervi che si avvicinano alla casa. La ragazzina chiede aiuto al fratello, in quanto è intenzionata a seguire i cervi nel bosco. I due camminano un po' tra la vegetazione, e qui Archie viene morso da una zecca. Dal nulla un rumore forte penetrante si espande ovunque, causando dolore a chiunque lo senta. I Sanford decidono di lasciare Long Island fuggendo attraverso l'unica autostrada della zona, ma qui scoprono che decine di veicoli con autopilota di marca Tesla si stanno schiantando a tutta velocità contro le altre macchine abbandonate. I Sanford quindi tornano a casa di GH. Proprio GH, che lavora nel ramo della finanza di alto livello, si apre con Amanda, raccontandole che un suo cliente molto facoltoso e influente, ha fatto dei particolari movimenti di capitale poco prima che iniziasse tutto il caos. Poco dopo ritorna all'assordante frastuono, che si ripete più volte. Inoltre Archie comincia a stare malissimo e perde i denti a causa della malattia di Lyme, contratta dalla zecca. GH, capendo che la situazione di Archie è davvero molto grave, decide di chiedere aiuto a un suo amico patito per la sopravvivenza, tale Danny, interpretato da Kevin Bacon. Danny inizialmente non vuole aiutare gli altri. GH e l'uomo si puntano le armi addosso, ma Clay riesce a far ragionare Danny, che condivide alcuni suoi farmaci. Danny racconta anche qualcosa su quanto sta succedendo. Dice che il frastuono è causato da un'arma microonde e sostiene che un suo amico ha assistito al lancio di volantini da un aereo, ma che erano scritti in cinese o coreano. Alla fine GH svuota il sacco e confessa a Clay di sapere cosa sta realmente accadendo. Si tratta di un colpo di stato politico che innescherà una seconda guerra civile. La sospensione delle connessioni, la disinformazione, il depistaggio sono tutti step di questo golpe. Ciò è confermato da un'inquadratura di New York che viene pesantemente bombardata. Nella scena finale del film, Rose, cercando ancora i cervi, raggiunge una grande villa dotata di un immenso bunker, pieno zeppo di provviste e comodità. Rose qui trova anche un cofanetto DVD di Friends e può così coronare il suo sogno, finire la serie, mentre una radio trasmette inquietanti messaggi circa la guerra in atto, dove stanno venendo usate anche armi nucleari. Tutto il mondo dietro di te spinge lo spettatore a riflettere su due temi, la fragilità della nostra società e la complessità nell'intessere rapporti di fiducia, soprattutto con gli estranei. Uno dei cardini della nostra società del XXI secolo è la facilità e la velocità con cui possiamo raccogliere informazioni. I media come internet, la tv e tutto il resto ci consentono di informarci a tutte le ore circa cosa sta accadendo attorno a noi e nel resto del pianeta. Siamo ormai abituati a tutto questo. L'inizio della fine in Il Mondo Dietro di Te parte proprio con il silenzio di internet e dei media. Ciò innesca un crescente senso di ansia che poi sfocia nel caos. A ciò appunto si aggiungono anche i blackout, i vari attacchi destabilizzanti, come quello condotto con l'arma a microonde, e il panico si diffonde sempre più, tirando fuori il peggio di noi, in alcune persone, non in tutte. Anche i protagonisti del film, in particolare Amanda Sanford, all'inizio sono diffidenti e quasi paranoici, poi però arrivano a fidarsi l'uno dell'altro. GH rischia la sua vita per recuperare le medicine per arci, e persino il duro survivalista alla fine decide di dare una mano. Rose invece incarna un'altra reazione di fronte a un disastro, o a una situazione destabilizzante. Rose è totalmente concentrata su voler terminare di vedere Friends, e si chiude a tutto il resto. Per lei non sembra esistere altro se non la sua amatissima serie. È una strategia di difesa, anche se all'esterno appare alquanto irritante. Io stesso non ho sopportato Rose per tutto il film. E i famosi cervi che cosa ci azzeccano? Che senso hanno? È stato proprio il regista di Il mondo dietro di te a parlare apertamente del senso dei cervi. Si tratta di una metafora del cambiamento climatico e di come l'umanità sta alterando l'equilibrio naturale. Qualcosa di bello come un gruppo di cervi diviene quasi inquietante se inserito in un contesto differente. Così come la natura benevole portatrice di vita può diventare fonte di pericoli se alterata dalle nostre azioni. Nel libro i cervi non hanno un ruolo particolare essendo appunto una scelta del regista. In generale il mondo dietro di te appartiene a quei film che mettono davanti ai nostri occhi un'apocalisse possibile se non plausibile. Non servono supervulcani, comete o disastri di portata globale per innescare il collasso di una società complessa ma anche fragile come la nostra. Negli Stati Uniti poi, complice anche quanto successo a Capitol Hill dopo le elezioni che hanno visto vincere Joe Biden contro Trump, è tornata una certa ansia verso una possibile seconda guerra civile. Una crisi interna che possa portare a una crisi politica e sociale paragonabile a quanto accaduto durante la guerra di secessione, ormai più di 150 anni fa. Non è un caso che quest'anno uscirà un film a tema proprio seconda guerra civile. In America hanno sentito un brivido sulla schiena vedendo appunto quanto è accaduto. Per quanto riguarda il film in sé per sé, il mondo dietro di te è una buona pellicola apocalittica, con un cast di prestigio e un clima di tensione crescente che migliora minuto dopo minuto. Ci sono anche delle belle scene impattanti come quella dei disastri aerei o anche quella delle Tesla che si schiantano, quindi se siete appassionati del genere post-apocalittico, fine del mondo, la visione è consigliata. Il film dura un po' più di due ore quindi non è velocissimo, il ritmo non è sempre al top, però dai secondo me si lascia guardare. Come detto in apertura il film è disponibile nell'abbonamento di Netflix, visto che è stato lui a realizzarlo, quindi insomma lo troverete solo lì. Che dire i signori? Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo il mondo dietro di te. Se avete visto il film, se qualcuno anche ha letto il libro, può anche condividere le sue opinioni in merito appunto al libro e al confronto con il film, la sezione commenti è qui per voi. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale perché non ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo tra la sua funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!